In molte città della Toscana c'è già in atto Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Prato, Siena, quindi non si parla di militarizzazione, quindi vediamo se il Ministero dell'Interno ci darà una risposta favorevole. Esercito a Saione, sì o no, la querella ormai è in atto. Secondo alcuni residenti potrebbe essere un importante deterrente, dopo i fatti accaduti in quello che viene ritenuto ormai un quartiere sensibile della città di Arezzo. La richiesta verso il Ministero da parte del Comune potrebbe partire a breve. Stiamo preparando la richiesta, secondo me la cosa più importante è mettere a disposizione tutte le forze che possono essere messe in campo per migliorare la situazione. E quindi io non credo che con poche unità militari si possa parlare di militarizzazione. Il piano di strade sicure in tutta Italia prevede l'impiego dell'esercito a tutela degli obiettivi sensibili. Il militare non ha compiti specifici di polizia di sicurezza o polizia giudiziaria. Anche laddove vengono in alcune realtà molto limitate, faccio riferimento agli aeroporti, faccio riferimento alle grandi stazioni, dove vengono impiegati vengono sempre impiegati a fianco di operatori di polizia o di persone appartenenti all'arma ai carabinieri. Quindi il discorso su Saione è un discorso di intervento di prevenzione. Poi, certo, più siamo e meglio è.